L'efficienza della sanità molisana ai noi è abbastanza scarsa. Oggi sì e domani pure riceviamo la mentelle da parte dei cittadini per i disservizi che si registrano un po' da tutte le parti. Questa volta il signor Manna ha avuto una disavventura così con il centralino dovendo prenotare una visita medica. Che cosa è successo? È successo che da circa dieci giorni sto provando a prenotare delle visite mediche presso il numero verde dell'ASREM e non riesco a parlare con nessuno. Il problema non è tanto il fatto che il telefono è sbagliato il numero perché è cambiato. Il discorso è che si mette in funzione il disco solito dove ci dice da tutte le informazioni poi nel momento in cui comincia a dire che sto in attesa eccetera eccetera passano minuti e minuti poi cade automaticamente la linea e quindi si riprova. Ma a tutte le ore del giorno non soltanto una volta e in quel momento. Ma non è riuscito a prenotare? Riuscito perché anche stamattina ho provato cinque o sei volte a chiamare e non c'è possibilità di parlare con nessuno. Signore responsabili che ci ha ascoltato io credo che un po' di buonsenso un po' di disponibilità e un po' di cortesia quella cortesia che molte volte manca non guasterebbero.